Benvenuti e benvenute in questo video tutorial di Orizzonte Scuola in cui vi mostrerò dove e come visualizzare la convocazione per il concorso docenti bandito nel 2023 e che si svolgerà il prossimo mese, quindi marzo 2024. Ricordo che a causa dell'elevato numero dei candidati il Ministero ha previsto più giornate e due sessioni in ciascuna giornata per dare la possibilità agli uffici scolastici regionali di poter suddividere i candidati. Le date stabilite a livello ministeriale sono 11 e 12 marzo per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, dal 13 al 19 marzo per la scuola secondaria. In ciascuna giornata è possibile avere due sessioni, una mattutina con inizio alle 9 ma bisogna presentarsi alle 8 e una pomeridiana con inizio alle 14.30 ma bisogna presentarsi alle 13.30. In questi giorni gli uffici scolastici regionali stanno pubblicando degli avvisi nei loro siti web contenenti tutte le informazioni sulla prova scritta. In particolare, per visualizzare la convocazione personale contenente la data, l'orario e la sede scolastica presso cui recarsi per svolgere la prova, bisogna andare nella piattaforma Concorsi e procedure selettive, la stessa utilizzata per presentare la domanda di iscrizione al concorso. Clicchiamo su Vai al servizio e dopo aver effettuato l'accesso tramite speed, carta di identità elettronica o altro servizio, si accede alla piattaforma. Clicchiamo su Graduatorie. Chi ha partecipato a precedenti concorsi visualizzerà più riquadri. Bisogna cercare quello relativo all'ultimo concorso che per la scuola secondaria è bandito ai sensi del decreto ministeriale numero 205 del 2023. Per la scuola primaria dell'infanzia, invece, il decreto ministeriale di riferimento è il numero 206, sempre del 2023. Una volta individuato il riquadro, clicchiamo su Vedi graduatoria. Si accederà ad una pagina con i propri dati di recapito, dati personali. Il riquadro che interessa è quello degli allegati. Sulla destra troviamo un link con scritto allegati.zip. Cliccandoci verrà scaricato il file zippato con due file pdf. Uno di questi contiene la convocazione al concorso. Ricordo che gli uffici scolastici regionali stanno ancora lavorando alla suddivisione dei candidati nelle varie giornate e sessioni. Di conseguenza, non tutte le convocazioni sono ancora pronte e quindi neanche scaricabili. Nel file della convocazione sono indicati il giorno, l'orario, la scuola, il suo indirizzo e la specifica aula in cui bisognerà sostenere la prova e si ricorda che bisognerà presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito web del vostro ufficio scolastico regionale e agli articoli sul sito di Orizzonte Scuola.